Restiamo al volley perché a partire dalle 18 con diretta su Rai Sport c'è un'altra super sfida al Palabarton, questa volta in Superlega con la Sir Susavim Perugia che riceve i rivali storici di Modena. Un confronto dal grande fascino, dal pronostico incerto e dallo spettacolo assicurato. Coach Lorenzetti dovrà rinunciare ancora a Russo e Leon entrambi infortunati con Plotnischi non al meglio della condizione. Grazie.